...quì in Germania, soprattutto qui a Cologna, si è passati dal bello al brutto tempo in un battipaleno, buon viatico per quanto riguarda questa sfida, triubice sfida italo-tedesca, grazie al successo, anzi al superamento del turno della Fiorentina ieri sera, ora tocca alla Juventus e diciamo Roberto, il tuo seguito sei stato anche protagonista di una sfida in passato contro il Cologna, che i precedenti italiani contro il Cologna autorizzerebbero sogni di vittoria o perlomeno di superamento di turno, no? Ma io non credo molto ai precedenti, ai termini statistici, credo molto a quello che il campo dovrà dire, a quello che il campo potrebbe dire, questa Juventus ha le caratteristiche, le capacità per passare questo turno, non è assolutamente facile, trova una grossa squadra, però ha le possibilità di farcela. Sempre sul piano squisitamente statistico, ricordiamo che la Juventus ha vinto tutte le partite fin qui giocate in Coppo UEFA senza mai subire un gol, senza mai subire un gol, viceversa il Cologna ha vinto tutte le partite giocate in casa, qualcosa ovviamente dovrà cambiare nella rotta di queste due formazioni. Se vogliamo credere le statistiche, le probabilità aumentano per un pareggio finalmente, per entrambe, quindi questo sarebbe benissimo la Juventus, in ogni caso è una partita, sono due squadre che sono portate all'assisto offensivo, io credo che sarà un pareggio, non sarà senza gol. Ricordiamo ancora brevemente che ci sono delle assente, soprattutto quelle che riguardano i due playmaker, i due Spielmaker, come li chiamano qui, Giancarlo Marocchi e Pierlid Barschi. Ecco, in che misura questi due giocatori secondo te peseranno nelle rispettive formazioni? Ovviamente dove si tenga conto che teoricamente la Juve dovrebbe impostare una gara diversa da quella del Cologna, no? Beh, lo dico forse un po' come parte in causa, ma direi che dovrebbe pesare più forse quella di Lid Barschi, o è meglio quello che spero, in quanto è l'uomo che dà fantasia, che dà inventiva, unità a quella che può portare Eisler, e quindi il giocatore che quando deve affrontare una squadra chiusa può veramente essere decisivo. Io credo e spero che debbano o possano soffrire di più quelli del Cologna. Per concludere, non ci sono novità per quanto concerne la formazione della Juventus e quella annunciata, ci sono invece tre novità per quanto concerne invece la formazione del Cologna rispetto alla squadra che era scesa in campo nella gara di andata di Torino, vinta dalla Juventus per 3 a 2, ma per... ...per salvi un di Cologna, dove tra pochissimo Juve e Cologna daranno vita all'incontro di ritorno delle semicinari di Coppa UEFA. Come potete vedere le squadre stanno entrando in campo. Una nutrita rappresentanza di tifosi juventini a corsa qui in Germania per sorreggere la squadra bianconera. Adesso cercheremo di avvicinare qualche giocatore della Juve, sempre che l'arbitro e il delegato UEFA ce lo consentano. Manca pochissimo. Dicevo all'inizio della partita, come vedete, le condizioni del tempo sono veramente inclementi. Piove, ma c'è la possibilità che cambi. Ecco, vediamo i giocatori della Juventus. Pasquale, Pasquale, come stai? So che avevi dei problemi fisicamente. Sì, sono dei problemi, male al chiede, però è una battaglia, quindi bisogna dare tutto. Grande e nutrita rappresentanza di tifosi juventini qui a Sorreggervi. È un spettacolo, è un spettacolo per tutti i tifosi juventini. Speriamo di dargli una soddisfazione. Senti, se tu in questo momento dovessi scommettere sulla Juventus, se lo faresti? Te l'ho detto ieri, alla grande. Cosa dovete fare per non incorrere negli oroi di Torino? Correre come loro, stare più attenti. Speriamo bene, ecco, al campo pesante. Ciao, in bocca al lupo. Benissimo, come avete visto, grande ottimismo nelle file bianco-nere. Io restituisco la linea a Bruno Lunghi e a Roberto Bettega. Bene, grazie Nicola. Dunque le squadre stanno facendo il loro ingresso a centro campo, procedendo con passo in verità non molto spedito. Vedete questa bellissima immagine con palloncini, purtroppo, bianco e rossi, purtroppo perché ricordano i colori del Cologna che vengono liberati al cielo. Dicevo, piove a dirotto, situazione del terreno di gioco che ci è stata raccontata, anche se purtroppo sommariamente, da Pasquale Bruno. Brevemente le formazioni, con la Juventus che schiera Tacconi, Napoli, De Agostini, Galia, Bruno, Bonetti, Alainicov, Barros, Casiraghi, Alessio e Schillaci. Per quanto riguarda la panchina della Juventus, panchina che vi verrà proposta tra poco in sovraimpressione, ricordiamo che è composta da Bonaiuti, Brio, Avallone, Zavarov e Michele Serena. È doveroso anche citare il nome di battesimo di questo giocatore omonimo, del giocatore dell'Inter. La Juventus dunque, come si può vedere, schiera una formazione che deve fare a meno dello squalificato, dello squalificato, Marocchi e degli acciaccati, Fortunato e Triccella. In più manca anche Zavarov che è relegato in panchina, Zavarov che è alle prese con problemi personali decisamente gravi. Ecco, per quanto riguarda questa squadra, Roberto, è una squadra ovviamente che potrebbe ripetere quanto ha fatto di buono anche nelle precedenti trasferte europee, visto che lo schermo, lo satura, non cambia di granché. Sì, è una squadra impostata, intanto vediamo la formazione del Colonia, penso che sia giusto privilegiare questo. Bene, dicevo, Ilgner, Gilken, Goertz, Giske, Steiner, Greiner, Asler, Rudi, Sturm, Jansen, Ordenevitz. Dicevo prima, tre solo variazioni rispetto alla formazione dell'andata, non ci sono Igl, Dressen e Lidbarski che è squalificato, ci sono al loro posto Giske, Steiner e Ordenevitz. Dicevo prima della Juventus, è una squadra molto compatta, compattata dietro, nella metà campo, che poi si affida a questa banda di velocisti davanti, che sono Schillaci e Barros in prima, e ha la potenza, la forza, il coraggio anche di Casiraghi. È una squadra quindi votata a essere pericolosa, anche perché l'unica maniera per tenere un po' lontani questa gente è proprio renderli dei grossi pericoli. Dunque, Müngersdorfer di Colonia, gli ordini dell'arbitro Zoran Petrovic, Zoran Petrovic, Jugoslavo, colui che diresse qualche settimana fa la sfida di Coppa delle Coppe tra Grasso per Sessandori, dicevo Müngersdorfer di Colonia, va in scena il secondo capitolo di questa triplice sfida italo-tedesca dopo il buon lavoro effettuato dalla Fiorentina. Vediamo cosa sta per fare una Juventus che è pur forte del vantaggio, un vantaggio che è poi scemato strada facendo nella gara di andata, comunque è sempre un vantaggio di un gol nei confronti della formazione del Colonia. In azione Dario Bonetti, mentre vedete che molti palloncini sono rimasti sul terreno di gioco creando una situazione un pochino strana per noi che siamo qui a commentare una partita di calcio con circa 6-7 palloni che ora vengono opportunamente schiacciati con una pedata dai giocatori in campo. Piove a dirotto, è una situazione ambientale, una situazione climatica, una situazione che potrebbe anche cambiare nel corso della gara già che proprio nelle ultime ore abbiamo assistito a diversi cambiamenti. Comunque vediamo subito di entrare in cronaca e di indovinare un pochino quelli che saranno gli accorgimenti tattici apportati dalle due formazioni. C'è nel frattempo un intervento di De Agostini, una palla poi catturata da Galia, Galia attaccato da Rudy e poi è Bonetti che deve giocare con una fasciatura al polso sinistro un polso fratturato che ha rilanciato il pallone nella metacampo avversaria. L'intervento di Gertz, la palla è per Ordenevitz che tenta il drillbing ai danni di Napoli, buon lavoro del difensore della Juventus e palla che termina in fallo laterale con rimessa in gioco per la formazione di Dino Zoff che penso anche per motivi scaramantici si affida ancora una volta alla maglia gialla. Ma sai, giallo e blu sono i colori della città di Torino e penso che vogliono portare buono in quel senso ma intanto la Juve mi pare disposta come si pensava, un marcatore centrale, Bruno, Napoli sulla fascia destra De Agostini a sinistra e poi questo schieramento di centrocampo con Alessio, Galia, Aleinicova e Barros che devono fare da diga e devono tenere il più corto possibile la squadra. Vediamo che cosa saprà fare questo Cologna il cui allenatore Christoph Daum ha detto ieri che non sbilancerà più di tanto nel corso della prima parte della gara ma che invece dovrà ovviamente eseguire una gara d'assalto, una Laufensturm come l'ha definita lui, nel secondo tempo questo è lo schema ovviamente, il disegno tattico che vorrebbe vedere poi tradotto sulle terreno di gioco dai suoi giocatori da parte del tecnico Christoph Daum, 36 anni, il tecnico più rampante, così viene definito nella Bundesliga. Ecco Tacconi che sta per rilanciare quando la gara è iniziata da due minuti, risultato di 0-0 palla lunga, cercare la testa di Casiraghi, Casiraghi che termina a terra, forse toccato anche fallosamente un po' in difficoltà il giocatore Ghische, Andreas Ghische, giocatore norvegese, pedinato da De Agostini la palla termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è del giocatore italiano di cui la rimessa in gioco per la formazione del Cologna. Cologna, ricordiamolo, che è al secondo posto della classifica della Bundesliga a quattro punti dal Bayern di Monaco Cologna che ha praticamente al sicuro la partecipazione alla Coppa UEFA per la prossima stagione ma un Cologna che sempre secondo le parole del suo tecnico vorrebbe arrivare finalmente a vincere qualcosa Ricordiamo che approdò alla finale nel 1986 della Coppa UEFA il Cologna contro il Real Madrid ma venne battuto sonoramente a Madrid 5-1, poi riuscì nella gara di ritorno che si giocò a Berlino a vincere per 2-0, ma ovviamente per la differenza a Reti la Coppa se la giudicò il Real. In azione ancora la squadra di casa con la Vianzen, poi Steiner ha lanciato lungo palla che è stata guadagnata con un prezioso 1-2 da Totoschi Laci che viene inseguito fallosamente da Greiner interviene Zoran Petrovic, il direttore di gara, che assegna il calcio di punizione alla formazione della Juve mentre vedete inquadrato Frank Greiner giocatore di 23 anni e rivediamo anche l'intervento falloso di questo poderoso centrocampista. De Agostini Casiraghi, l'intervento è di Ghischi, ancora una volta l'arbitro assegna il calcio di punizione alla formazione italiana mentre pensiamo sentirete nitidamente lo speaker dello stadio che anche in lingua italiana invita i tifosi a non lanciare Mortaretti, Bengala e cose di questo genere calcio di punizione battuto da De Agostini, palla che attraversa l'area di rigore, sbetta bene Casiraghi poi c'è stato un intervento di Steiner, una palla recuperata da Ordenevitz che prova il calcio lungo a cercare Sturm ma in netto anticipo è Bonetti mentre vedete che un po' di sole fa capolino sul terreno di gioco situazione climatica, dicevo prima, che era suscettibile di variazioni in effetti la prima variazione l'abbiamo già verificata in questo momento vi ricordiamo anche che nel corso della gara ci saranno delle brevi interruzioni pubblicitarie ma attenzione la partita vi verrà proposta interamente nella sua interezza nei suoi 90 minuti intanto c'è da vedere questo Colonia che sta studiando proprio sta rispecchiando gli intendimenti del suo allenatore non mi pare che voglia essere troppo aggressivo tra l'altro c'è questa marcatura di Gimse su Casiraghi che secondo me può dare dei risultati favorevoli alla Juve mi sembra abbastanza legato nei movimenti e non all'altezza di competere di te nel gioco aereo con l'attaccante Juventino ed ora Alenikov pressato a buon gioco questa volta il pressing del Colonia ma poi vedete ci mette una pezza Gigi Diagostini che scaglia il pallone lontano in fallo laterale mentre vedete la rappresentanza societaria della Juventus riconoscibile anche un giocatore vale a dire Giancarlo Marocchi che è squalificato in questa partita Steiner palla lanciata lunga in direzione di Ordeneviz Alessio Rui Barros colpi testa di Napoli cercare Totoschi Laci ancora Totoschi Laci buono il disimpegno del giocatore col pallone Galia ancora Galia si fa rubare la palla da Olaf Jansen contrattacco del Colonia attenzione cerca di recuperare Alenikov ancora in azione il Colonia con quest'azione insistita palla che era stata portata da Frank Greiner ancora una volta un disimpegno errato con la palla riconquistata dei giocatori di casa Steiner che ha scambiato con Hestler che tocca il suo primo pallone da questi a Steiner ancora tenta il dribbling l'anziano della compagnia e guadagna il primo calcio d'angolo dicevo l'anziano perché ha 33 anni Paul Steiner ma mi sembra subito che Colonia denunci quell'assenza di Riesbowski che dicevamo quando sviluppa il gioco è portato anche lui a rispecchiare molto uno standard delle squadre tedesche grossi palloni, grandi calcioni verso le punte offensive proprio manca quella fantasia che è l'uomo che riceve la palla in posto ed ecco il primo calcio d'angolo della partita che viene battuto da Thomas Hestler palla che attraversa l'area di rigore la respinta di Agostini poi ancora Hestler alle prese con Barros il cross un grappolo di uomini ancora Steiner sul pallone palla toccata sulla sinistra c'è un cross di Rudy un colpo di testa ancora di Agostini uno stop di Schillaci è stupendo l'aggancio di Schillaci guardate il tunnel ancora Schillaci che poi cerca di far proseguire l'azione è comunque una caparbia ma anche elegante azione da parte di Totò Schillaci ha fatto una grandissima cosa con molta serenità e lucidità anche lo rivediamo lo vediamo subire il fallo aveva solo peccato una volta vediamo che ha anche un piccolo gesto di rabbia una volta svicolatosi dal primo dream venuto fuori di cercare questo contropiede vedendo cercando di alzare la testa di guardare il compagno meglio piazzato proprio per sfruttare questo contropiede e c'è stato ora il retro passaggio da parte di Dario Bonetti verso Tacconi dicevo prima proprio in apertura che la Juventus ha vinto tutte le gare fin qui giocate in trasferta in Coppa UEFA senza mai subire una rete viceversa il Colonia ha sempre vinto le gare casalinghe mentre vediamo questa azione di Esler con palla toccata in direzione di Olaf Janssen c'è un intervento scorretto da parte di Gigi De Agostini cari di trovare improverarlo verbalmente c'è un calcio di punizione ovviamente per il Colonia mentre lì vediamo l'azione sì sicuramente è stato molto bravo il giocatore del Colonia a rubare il tempo intanto vediamo che il suo giocatore va al cross svetta molto bene Napoli palla ancora per Olaf Janssen è buono anche l'intervento di Rui Baros probabilmente la rimessa in gioco doveva essere assegnata alla Juventus perché c'era stato un lieve rimpallo sulle gambe di Janssen comunque si lascia proseguire ancora un fallo laterale per l'intervento di Galia mentre vedete che c'è un giocatore a terra giocatore del Colonia e palla che poi termina un fallo laterale non si perfeziona lo scambio tra il numero 10 Janssen e il numero 8 Rudy mentre il giocatore a terra dovrebbe essere il norvegese Ghiske che si sta facendo medicare rimessa in gioco nel frattempo per la Juventus con De Agostini Casiraghi di testa Baros attaccato fallosamente Schillaci e poi l'intervento di Alenikov partita che si sta giocando su ritmi abbastanza elevati rimessa in gioco per il futuro Juventino Thomas Hessler c'è un intervento falloso ma involontario di Di Agostini che aveva cercato il pallone e poi trovato i piedi del giocatore Rudy si ha rischiato un pochettino perché era il secondo fallo questo molto meno meno cattivo direi che quasi quasi non c'è stato il contatto sicuramente l'intervento falloso rischiava appunto un pochettino l'ammunizione essendo il secondo fallo simile in pochi attimi dicevo prima che il Colonia ha sempre vinto in casa la Juventus ha sempre vinto in trasferta ed ora c'è un calcio di punizione per la formazione di casa che viene affidato a Thomas Hessler mentre anche Franco Ordenovic è pronto a battere in effetti è quest'ultimo che va al tiro parata di Tacconi su un tiro che osiamo definire un tantino velenoso ma non difficile si non troppo difficile perché era sul primo palo e quindi era impossibile per qualsiasi attaccante avversario cioè del Colonia arrivare magari in scivolata a cercare di spingere la palla e quindi direi che come tiro era abbastanza facile per Tacconi intanto vediamo che questo difensore sarà costretto come lo è stato in questa occasione a fare tantissimi falli su Casiraghi e infatti sull'arrivo della palla spinge sempre prima sposta sempre l'attaccante ed ecco ancora Casiraghi vedete in effetti c'è stata la spallata o forse la manata di Ghisch che l'arbitro comunque ha detto che è tutto regolare vediamo inquadrato proprio giocatore norvegese Anders Ghisch 30 anni e si riprende con un calcio di rinvio mentre una parte ora del terreno di gioco una parte attenzione che c'è un errore di Steiner e la Juventus con Casiraghi non riesce ad approfittare di questa ghiotta opportunità causata dal rientrante libero si è un'ingenuità enorme mastodontica che poteva costargli carissimo vedete che non si è accorto dell'uomo e poi non so che cosa voglia chiamare fortuna fortuna sua riesce a porci di medio con questa puntata però era un'occasione veramente propizia dunque una ghiotta opportunità per la Juventus causata dal libero capitano Steiner mentre vediamo ora Bonetti l'intervento l'intervento è di Greiner e palla che termina in fallo laterale dicevo che una porzione di campo verticalmente alla sinistra del portiere tedesco alla destra di Tacconi vediamo nel frattempo questo cross sbagliato di Schillaci dicevo è coperta dal sole con una parte soleggiata del terreno di gioco e anche tutta la tribuna al di là di fronte alla nostra postazione è una tribuna soleggiata e auguriamoci che la situazione atmosferica vada avanti di questo passo ricordiamo che è stato registrato il tutto esaurito e il record in casso per questa partita circa 3 miliardi e 300 milioni e ovviamente diritti televisivi compresi e la rappresentanza dei tifosi giuventini se gira sulle 6-7 mila unità mentre abbiamo visto un grande numero di Thomas Ester che poi va al cross e la Juventus riesce bene a chiudergli la stada con un raddoppio di marcatura eseguito da De Agostini e Galia vediamo nel frattempo che Galia guadagna una rimessa laterale forse sperava in un calcio di punizione vediamo si in effetti è proprio così mi era parso che l'arbitro non volesse concedere questo calcio di punizione ed ecco appunto i tifosi lo avete visti c'era un'incompressione perché giusto perché o era rimessa laterale per il Colonia o fallo per la Juventus infatti il guardaline ha sbandierato per la Juventus ma indicando il fallo cosa che Petrovic non aveva capito tutto subito De Agostini ancora è Barros che ha ricevuto da Schillaci mentre ripetiamo che la marcatura su Schillaci è di Gilken mentre invece Ghischke gioca su Casirelli ancora dalla fascia destra cerca di attaccare di sfondare il Colonia con quest'azione di Ester ancora Gigi De Agostini calcio a lungo colpo di testa ancora una volta di Casiraghi in anticipo anzi il colpo di testa di Casiraghi per cercare Gilken poi ancora Gilken che era in anticipo in una posizione avvantaggiata e vantaggiosa nei confronti di Schillaci Ghischke Steiner ancora i due che si passano ripetutamente il pallone grande movimento nella metà campo Juventina Rudy di testa e poi palla che incoccia sulle gambe di Goerz rimessa in gioco che vedremo tra pochi istanti ed ecco che abbiamo visto questa rimessa in gioco Rui Barros Napoli palla per Casiraghi che cerca Schillaci che non riesce ad agganciare il pallone a buon gioco la difesa della Colonia Estler servito dal portiere Higler Higner scusate ancora Estler Rudy è qua che si ferma a Colonia quando la palla è da queste parti non ha assolutamente chance quando un giocatore prende l'iniziativa lo prende senza troppa convinzione è proprio l'assenza di un giocatore di esperienza di classe di fantasia di un lead bus che si sta facendo sentire pesantissimamente per loro mi pare calcio di punizione affidato a Rudy al polacco Rudy Estler ancora Estler si chiude la difesa Juventina non riesce Estler a servire Jansen e poi vedete Allainikov che viene inseguito ancora dallo stesso Estler scatenato e c'è comunque un calcio di punizione mentre vedete Thomas Estler che sta riprendendo la sua posizione sulla fascia destra del campo Bonetti che va a cercare Casiraghi trova invece Ghischke questi è Greiner il lancio è lungo il colpo di testa è di Bruno ancora Ghischke un colpo di testa ancora di Di Agostini Jansen poi Estler una diga efficace quella della Juventus a centro campo proprio nelle dichiarazioni dello stesso tecnico Down con l'allenatore si aspettava di trovarsi in una situazione tattica di questo genere sì sicuro ma anche se io non voglio dare consiglio posso dargli perché tanto non mi sente ma l'unica cosa che tenterei di fare è di portare Estler in mezzo perché mi sembra l'unico che con la palla in piedi ha il coraggio di tentare qualcosa depisterei sulla Faison qualche suo compagno vediamo ancora un tentativo del Colonia un mezzo errore di Alenikov poi riesce a recuperare il sovietico della Juventus che viene poi attaccato dal polacco Rudy calcio di punizione mentre vedete proprio Alenikov in primo piano Sergei Alenikov giocatore che non è ancora andato a segno in questa edizione della Coppo EFA diciamo che non è motivo di demerito già che si può anche non segnare ma l'abbiamo detto forse per ricordare anche che la Juventus ha saputo realizzare ben 17 gol in questa edizione della Coppo EFA fino a questo punto subendone 8 viceversa il Colonia ne ha segnati 15 e subendone 7 diciamo che sono su livelli quasi simili le due formazioni dicevo prima che il Colonia si è comportato molto bene in casa battendo il Plastica Nitra per 4 a 1 lo Spartak Mosca per 3 a 1 la Stella Rossa per 3 a 0 l'Anversa per 2 a 0 mentre la Juventus ha vinto tutte le gare in trasferta segnando 5 gol e non subendone alcuni calcio di punizione nel frattempo battuto da Alessio la palla che è stata respinta in un primo momento da Gilken poi da Esler mentre Aleinikov che si era sostituito a Bonetti nel ruolo di libero ha anticipato Sturma ancora una volta vedete la tribuna VIP riconoscibile dunque dicevo dirigente Juventini ancora Giancarlo Marocchi e ancora il rilancio di Tacconi colpo di testa è di Armin Goertz Napoli palla molto lunga vediamo Schillacce le prese con Steiner un disimpegno un pochino goffo questo della Cologna comunque a buon gioco la difesa tedesca mentre il rilancio è stato effettuato da Bodo Higner che ha poi scambiato con Steiner da questi arrudi Vizche azioni molto ripetitive queste del Cologna vedete che i giocatori del Cologna cercano di verticalizzare ma non ha problemi la difesa Juventina mentre vediamo inquadrato Dino Zoff che non lascia trasparire alcuna particolare emozione se non vado errato ma penso che stia osservando serenamente l'incontro mi pare che la Juve sia disposta molto bene stia contenendo con discreta facilità le nemmeno folate offensive dei tedeschi che non stanno veramente nemmeno spingendo molto ancora Esler viene chiamato spesso e volentieri in caso dei suoi compagni Esler arriva al tiro attenzione alla canonata di Esler applausi del pubblico ma il tiro era completamente sbagliato anche se ovviamente vale la pena di rivedere questa conclusione del piccoletto del Cologne ma la sua forza la sua qualità è proprio perché uno che non ti non è che ti sai sempre dove va ti punta a volte all'esterno a volte all'interno sa andare alla conclusione con tutti i due i piedi come dimostrato in questa occasione col sinistro ecco perché è proprio l'unico che può dare dei sostanziali problemi in azione Bruno che ha anticipato il giocatore Sturm Ghische e questo è Gilchen Andreas Gilchen Steiner una retroguardia sicuramente macchinosa quella del Cologne quando deve fare gioco e non hanno molta fantasia e poi non osano aprire il gioco le punte sono quanto mai sfisse sono quanto mai statiche adesso Ordone avesse riuscito a conquistare questa palla e a trovare un fallo mi sembra abbastanza regalato ma proprio non hanno assolutamente uno schema diverso di questo di tentare di liberare un difensore per lanciare poi le punte e direi che i tifosi giuventini adesso inquadrati abbastanza sereni e tranquilli anche loro stanno rappresentando un attimino l'incontro calcio di punizione dunque per il Cologne risultato che è sempre di 0-0 quando siamo al diciannovesimo minuto ed ora vediamo Christoph Daum il 36enne tecnico il tecnico rampante della Bundesliga un tecnico che si avvale del computer e di una videoteca fornitissima per rivedere mentre rivediamo questo calcio di punizione altissimo per rivedere i giocatori che gli interessano e gli avversari da affrontare il tentativo di Esle proprio non è stato molto fruttuoso buon per la Juventus mi pare che abbia avuto anche un po' da ridire con il suo compagno in quanto il tocco non è stato come lui desiderava del resto la distanza era ragguardevole pensare di realizzare da lì ci voleva veramente un gran tiro 20 minuti del primo tempo sempre 0-0 tra Cologne e Juventus in azione Alessio che guadagna un calcio di punizione un risultato che ovviamente va benissimo alla Juventus ma al di là del risultato va benissimo quanto si è visto fino a questo momento sul rettangolo di gioco ancora Schillaci in dribbling cerca lo scambio ancora Schillaci palla messa in area vedete Steiner che senza troppi complimenti spedisce il pallone in calcio d'angolo procurando il secondo corno della partita calcio d'angolo che vedremo tra pochi calcio d'angolo per la Juventus il secondo della partita batte Alessio stacca o perlomeno cerca di staccare Bonetti ha avuto la meglio Steiner e poi c'è l'intervento di De Agostini nei confronti di Rudy che è finito addosso l'allenatore Christophe Daum dicevo prima circa 7.000 tifosi della Juventus arrivati dall'Italia ma sono anche numerosi gli italiani che vivono a Colonia e sono sugli spalti ovviamente ad incoraggiare la formazione bianconera arrivata con grande merito alla semifinale di questa competizione un colpo di testa di Alainnikov una palla lavorata da Napoli dopo un tocco di Alessio un colpo di testa di Ghisquet Rudy Napoli Gilkenal prese con Casiraghi imbattibile veramente nel gioco aereo il giovane Pierluigi Casiraghi Steiner prova a verticalizzare cercando Sturm alle prese con Bonetti ancora il centroattacco che ha tentato di liberarsi forse la palla l'aveva toccata lui per ultimo comunque rimessa in gioco ancora una volta a favore del Colonia per questa azione caparbia di Ralph Sturm c'è addirittura un errore dalla rimessa laterale riesce ad approfittarne vedete Steiner nonostante il disperato tentativo di Schillaci Janssen o la Fjanssen ecco Estler alle prese con Di Agostini buono il lavoro difensivo di Di Agostini che sicuramente in questa partita Roberto dovrà limitare un pochino le sue proiezioni in attacco mentre c'è un ottimo lavoro di Estler il cross il colpo di testa di Alenico che vedete per non saperne leggere né scrivere spedisce il pallone in calcio d'angolo sicuramente Estler è l'avversario più impegnativo per tanti motivi per fantasia per classe direi che anche questo tocco filtrante per il compagno al cross molto bello molto intelligente Eor Denevitz che si appresta a battere il secondo corner della partita per la formazione di casa del Colonna dalla calciata bassa ha rinviato Di Agostini e poi non è riuscito ad addomesticare il pallone Greiner si ripartirà ovviamente con una rimessa in gioco per la Juventus risultato di 0 a 0 quando siamo al 24esimo minuto del primo tempo ribadiamo ancora per quei pochi che non lo sapessero che la Juventus ha ottenuto all'andata un risultato di 3 a 2 per cui lo 0 a 0 va benissimo ma non deve assolutamente perdere con un gol di scarto salvo che sia questo un risultato di 4 a 3 non sembra che la partita lasci prevedere un risultato di tal portata perché veramente i portieri fino adesso hanno tolto una parata di tacconi su quel tiro basso su connessione di Ordone non sono mai stati impegnati e direi che proprio il Colonna ridimostra adesso che è atteso più che aggredito i suoi limiti proprio perché non ha la fantasia per scardinare un centrocampo una difesa abbastanza chiusa dopo un fallo invocato da Ordonewicz ma non concesso dall'arbitro Petrovic si è ripreso il gioco con una remessa laterale si gioca vedete in spazi molto stretti nella trequarti campo un errore del Colonna una palla ben conquistata da Totoschi Laci il ritorno è di Sturm vedete con quale goffaggine si mette a calciare Steiner e poi ancora la Juventus che torna in possesso di palla con Casiraghi e poi Napoli c'è anche il campo che probabilmente rende disegevole alcuni controlli però in effetti degli errori di disimpegno proprio elementari sono non dovrebbero vedersi a questi livelli anche in una semifinale di Coppa UEFA appunto Esler a questi a Gilchen e poi Jansen Olaf Jansen Ordenevitz Ordenevitz un giocatore che è stato ottenuto spesso e volentieri in Naftalina durante questa stagione il giocatore che era stato prelevato dal Werder Brema all'inizio di questa stagione da lui si attendevano veramente tanto non solo il tecnico ma tutti i sostenitori del Colonia nel frattempo c'è un intervento falloso di Goerze mentre vedete che si alza si scompone per un attimo se lecito usare questo verbo Dino Zoffo mi pare da come si è seduto però che non fosse tanto scomposto ma direi che la partita non gli sta offrendo troppe emozioni anche le emozioni che di solito sono micidiali direi che molto tranquilla Esler mentre cerca di verticalizzare Jansen che sta per entrare in area situazione che sul nascere sembrava pericolosa ci ha messo una pezza Bonetti e poi Galia il rilancio sbagliato e poi va al tiro con il destro Armin Goerz un giocatore che è un mancino naturale e si è visto il risultato ma si è visto da come è arrivato sulla palla in maniera completamente scomposta si è capito lontano meglio che non è il suo piede è arrivato col corpo indietro sbilanciato la gamba di fuori direi che ben vengano sempre questi tentativi con così poche intenzioni o cattive intenzioni soprattutto ricordiamo che la Juventus non arriva ad una finale di Coppa dal 1985 quando riuscì a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni che poi vinse per 1-0 contro il Liverpool nella tragica serata dell'Isle per quanto riguarda invece dicevo poc'anzi il Cologne la sua ultima finale risale è la sua unica finale risale al 1986 quando venne battuta nella doppia finale UEFA dalla Real Madrid attenzione a Rui Barros ancora lui palla che le è stata messa in fallo laterale da Gertz e rimessa in gioco per la formazione di Dino Zoff effettuata da Alessio che ha scambiato con Totoschi Laci un malinteso capita anche nelle migliori famiglie palla che termina in fallo laterale sempre 0-0 risultato quando siamo al 27esimo del primo tempo Steiner si lascia attaccare da Casiraghi poi tocca ad Esler Esler dimostra di saperci fare nonostante che l'attacco gli venga portato da tre giocatori veramente bravo Esler ed ora è Steiner che prova il cross Palla ben servita questa volta Sturm attaccato raddoppiano bene la marcatura Bonetti e Bruno in qualche modo Sturm calcia ma vedete che era una situazione di precario equilibrio palla che termina direttamente oltre la linea di fondo e la seconda volta che Sturm anche qua prima sulla fascia laterale cerca sempre di andare via dalla parte chiusa a questo punto doveva solo o cercare il rimpallo per ottenere il corner o venire via verso il centro e cercare un appoggio indietro di corsare di sinistra invece si vede che ha un binario segnato cerca sempre scarsi risultati ancora una volta la splendida elevazione di Gigi Casiraghi Rui Barros commette fallo non è d'accordo con il direttore di gara ecco vedete Rui Barros autore del primo gol nella gara d'andata Armin Gertz scambia bene Ordeneviz con Sturm e poi Bonetti Bonetti che era riuscito ad interrompere l'azione e poi la conclusione alta questa volta da parte di Olaf Jansen ed è un tiro che possiamo anche definire pericoloso comunque alto sopra la traversa si però ha calciato da fermo praticamente non ha avuto molto slancio ha tenuto si giù abbastanza al corpo però ha colpito sotto io credo che Tacconi molto avanti tra l'altro quindi chiudeva lo spazio avrebbe se non fosse veramente stato l'incrocio dei pali neutralizzato il tiro ennesimo fallo intanto dello stopper del Colonia che appena sta per arrivare la palla spinge Casiraghi per cercare di contrastarlo c'è una calcia di punizione dunque per la Juventus che viene affidato a Gigi Di Agostini mentre ci avviciniamo alla mezz'ora sempre 0-0 il risultato batte forte Di Agostini cerca la testa di Casiraghi ha trovato quella di Steiner Ordenevitz palla che termina in fallo laterale dopo l'intervento di Napoli mentre i tifosi della Juventus stanno improvvisando una ola una onda sugli spalti e mentre l'azione riparte con Rudy che ha ricevuto da Steiner ancora Rudy non c'è molto affiatamento ecco tra o perlomeno quanto traspare tra i giocatori del Colonia sembra si affidino più all'improvvisazione che ha schemi provati nonostante Daumieri abbia fatto sostenere un allenamento di circa un'ora e mezza porte rigorosamente chiuse forse per dare una ripulita una ripassatina a questi schemi che in effetti non vengono messi in pratica ma forse l'ha provato di schemi per non subire gol ma non mi pare molto per farli intanto ah c'è fuori gioco ha sbandierato il guardalino se si prosegue l'azione il guardalino era con la bandiera alzata vediamo è rimasto per 5-10 secondi con la bandiera alzata poi ha deciso di metterla giù vedete che va a protestare Ordónoviz rimessa in gioco dunque si riparte come se nulla fosse accaduto anche noi ci siamo ovviamente arenati ci siamo bloccati vedendo i guardalini con la bandiera alzata e invece l'azione sarebbe stata completamente regolare ancora Casiraghi ancora Casiraghi prova il tiro ribatte Ghischke parte centralmente Ester accelera ancora Ester inseguito vedete da Galia e poi Galia commette un fallo che gli costa l'ammunizione intanto Bonetti e il centroavanti stanno disticciando ma direi che il pericolo per la Juventus è che l'intelligenza di Esler lo porta a giocare in mezzo cioè essere più chiamato in gioco intanto abbiamo rivisto il fallo direi più più intenzionale che cattivo perché non poteva permettere che c'è un tocco dietro sui piedi che fanno inciampare l'avversario però il nostro il nostro guaio è se Esler si va in mezzo e comincia a inventare gioco dunque c'è un calcio di punizione per il Colonia mentre abbiamo controllato dunque Galia non figura tra i cattivi tra coloro che hanno già rimediato un cartellino giallo che sono Schillaci Bonetti D'Agostini Alainico Februno per cui non ci sono problemi di eventuali squalifiche future ed ecco nel frattempo il calcio di punizione battuto poi il colpo di testa di Napoli è un calcio d'angolo per il Colonia che vedremo tra pochi stani e il terzo corner per il Colonia sul risultato di 0 a 0 quando siamo al 32esimo del primo tempo è bravo Casiraglia ad allontanare il pallone dalla mischia poi Esler ancora Esler attaccato riesce a perfezionare un buon pallone va al cross però malamente o la fianzene diciamo che potrebbe essere anche colpa del terreno ma talvolta può essere colpa anche dei piedi ma no ma non ho capito bene come ha voluto andare a calciare questa palla di collo esterno da questa parte voleva dire tirare in porta di solito cosa tirare di collo interno per fare uscire la palla dalla traiettoria del portiere proprio per non permettere di uscire per l'attaccante che va incontro colpire con ancora più potenza a rinviato a rinviato tacconi schillacci ottima la sua elevazione Esler autore fino a questo momento di una prova positiva ancora Esler l'intervento di Galia c'era parso regolare non di questo avviso il direttore di gara Ralf Sturm sta per battere il calcio di punizione mentre avete rivisto se in effetti c'è stato l'impatto anche con le gambe poi si è trovato il pallone tra i piedi di Galia forse aveva ragione l'arbitro comunque si va avanti con Ghiske servito da Esler palla per Gilchen Gilchen per Ordeneviz forse c'è fallo se in effetti l'arbitro interviene per punire l'azione di Napoli calcio di punizione per il Cologna quando siamo giunti al 33esimo minuto del primo tempo quando il risultato è di 0-0 mentre vedete che Napoli cerca di portare le sue spiegazioni al direttore di gara si gli ha detto che si è buttato è chiaro che su una palla così non potendo più andare sull'anticipo il difensore deve stare attento a non fare fallo lasciarlo con le spalle girate e rifarlo giocare indietro perché calcio di punizione anche se in diagonale diventa sempre un'arma pericolosa da questo punto di vista gli schemi potrebbero anche servire e vediamo che cosa accade su questo calcio di punizione che il Cologna sta confezionando con una combinazione che vede protagonista ancora Esler palla che è stata deviata opportuna dunque la respinta di Napoli e Steiner che cerca di arrivare sul pallone Ghischke ancora Ghischke intervento di Bonetti e provvidenziale palla che comunque viene mantenuta in gioco da Jansen o la Pianzen che va al cross ed è un cross dalle parti di Tacconi fortunatamente perché c'era Ordeneviz liberissimo sì Napoli era venuto da questa parte a pressare anche lui trascurando Ordeneviz questa palla non è calciata di esterno che va verso la porta lo vedrete comparire adesso Ordeneviz era completamente solo molto bravo comunque Tacconi a venire fuori fin sul disco del rigore c'è stato dunque un tentativo nel frattempo da parte del Juventus con uscita di Bodo Ilgner mentre Esther forse sentendo i tuoi suggerimenti Roberto è andato a spostarsi centralmente e mentre vediamo quest'azione con palla per Sturm ancora una volta Sturm cerca di ripetere l'azione di Pocanzi sempre in situazione di difficoltà di equilibrio precario non ce l'ha fatta mettere la palla in mezzo insisteva sempre sul destro verso la linea di fondo non può più crossare quasi quando avrebbe tutto o molto più spazio dalla parte opposta ma io spero che Esler non vada dietro i miei consigli non posso dire che potrebbe essere una mossa importante ma sicuramente più pericolosa per la Juve Ordenovic sta per effettuare questa rimessa in gioco al 35esimo minuto l'intervento di Casiraghi diciamo che si rivela essersi un scusate un bisticcio un un intervento favorevole al Colonia che aveva sbagliato questa rimessa in gioco mentre ancora Ordenovic che va al cross Bonetti respinge bene Ghisch e poi la palla per Di Agostini che scambia con Casiraghi parte il contropiede della Juventus Casiraghi alle prese con Esler che riesce in qualche modo si a togliere il pallone dai piedi c'è da dire che questo Esler sicuramente si sta rivelando non solo un giocatore di stazza notevole ma un giocatore uno dei migliori in campo forse il migliore in questa partita sicuramente il migliore perché è quello che sta cercando di creare in ogni senso su ambo i fronti ed è un giocatore poi con una grossa vitalità occupa una fascia di campo uno spazio veramente enorme e l'assenza di Lidbaschi proprio che è l'alternativa nella loro spinta offensiva è proprio quella che manca questo Colonia i minuti di gara sono diventati 37 nel corso di questo primo tempo sempre 0 a 0 tra Colonia e Juventus qualcuno aveva detto che alle squadre italiane impegnate nelle partite di Coppa sarebbero stati sufficienti altrettanti 0 a 0 per guadagnare la finale fino a questo momento abbiamo assistito ad uno 0 a 0 ottenuto dalla Fiorentina e ad un primo tempo che sta proponendo un risultato di 0 a 0 ecco fermiamoci qui non azzardiamo delle previsioni ripetiamo soltanto quanto è stato detto Ghische ecco Rudy inseguito da Rui Baros ancora Rudy che forse si porta la palla in fallo laterale mentre Ester era riuscito forse a saltare Bonetti grazie anche ad un tocco ad una leggerissima deviazione 38 minuti di gara sempre 0 a 0 dicevo prima del bilancio delle due formazioni il Cologna in Coppa 5 vittorie 2 sconfitte 2 pareggi la Juventus 8 vittorie ed una sconfitta quella ottenuta in casa con l'Hamburga qualificazione praticamente già realizzata i gol dicevo 15 a 7 per il Cologna cioè 15 gol fatti a 7 subiti la Juventus risponde con 17 fatti 8 subiti mentre avete assistito a questa stucchevole situazione a centro campo con palloni battuti e poi respinti sempre di testa ed ora finalmente il pallone è stato scagliato in tribuna c'era molta paura in entrambe le parti di mettere giù questa palla e giocare non si voleva assumere grosse responsabilità dice ributtiamola più avanti che il pericolo è minore direi che quello che ne patisce è soltanto la qualità del gioco o del divertimento per gli spettatori è messo in gioco per la Juventus Schillaci Gertz e poi a buon gioco la statura la stazza di Stein nei confronti di lui Barrios mentre c'è questa deviazione di Galia è praticamente un passaggio involontario al portiere ma si era venuto a trovare in buona posizione Roberto Galia giocatore che ha spesso messo la sua firma gol importanti anche nelle competizioni europee quest'anno ha fatto due gol in coppa Gilchen poi Greiner che ha toccato per Steiner l'avanzata di Steiner cerca sturma l'uscita di Tacconi uscita senza problema di Tacconi mentre vedete Zoff che subito invita i difensori o perlomeno tutti i giocatori a portarsi verso la linea mediana del campo si loro cosa stanno cercando di turbare o come e mandando Steiner veramente facendo il libero davanti quando sono in possesso di palla o meglio il centrocampista in più avete visto che questo lungagnone andiamo a questa iniziativa bella per fortuna conclusa in modo molto meno interessante ma direi che sta facendo il libero davanti cioè entrando nel gioco volendo imporre una superiorità per liberare un qualcuno che fino adesso però non è riuscito e dunque la conclusione era stata effettuata da Greiner buona la sua accelerazione per fortuna non altrettanto buona la conclusione e si riparte con un calcio di rinvio quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo possiamo soltanto ricordarvi che nel corso di questa prima frazione di gara il Colonia ha battuto 3 calci d'angolo la Juventus ne ha battuti 2 di azioni degne di essere segnalate una conclusione di Ordeneviz al decimo e poi un pasticcio di Steiner che aveva quasi regalato a Casiraghi la palla gola al dodicesimo minuto ancora proprio Casiraghi in azione ha cercato di scambiare con Rui Baros Rui Baros ha le prese con Rudy mantiene molto bene o perlomeno inizialmente mantiene molto bene il processo di palla e poi il calcio di punizione che gli viene accordato dal direttore di gara Zoran Petrovic ingegnere jugoslavo di 38 anni non è sicuramente una partita facile c'è molta compressione molti raddoppi il campo la palla è abbastanza scivolosa e quindi non è semplice giocare anche perché le squadre tatticamente non vogliono veramente regalare nulla si riparte con un rinvio dopo la finta avete visto da parte del giocatore Stein una finta che aveva preso in controtempo anche Gischke ma non c'era nessuno dei giocatori della Juventus in grado di poter usufruire di questo traversone ed è Ilgner che ha rilanciato nella zona di Galia il colpo di piatto di De Agostini e poi è Casiraghi che ha cercato di lanciare Schillaci dunque vedete una Juventus ben disposta in difesa ed ora c'è un fallo di Gischke poi l'intervento di Galia Gambatese ma il fallo era del norvegese nei confronti di Casiraghi che se la prende con Jansen ma forse non ha visto che l'autore del fallo era il numero 4 Gischke ma probabilmente se l'è presa per quello che gli è stato detto però non so se l'ha capito veramente la cosa che rischia però è di stare a terra fingendo una botta e poi ha questa subitanea reazione invece contraria potrebbe anche giocare sulla sulla personalità dell'arbitro che potrebbe munirlo ancora la Juve con Alessio buon lavoro di Alessio che va al cross palla che viene deviata e poi c'è l'intervento di Greiner e poi di Gischke abbiamo visto che qualche giocatore della Juventus si lamentava per un presunto fallo di mano in verità non è che dalla nostra postazione abbiamo potuto vedere in modo preciso quello che è accaduto nell'area del Colonia ma mi è sembrato che ci sia stato e il giocatore tra l'altro non era molto vicino e quindi potevano esserci anche gli estremi della volontarietà anche perché il braccio non mi è parso che fosse lungo il corpo peccato che non ci è proposto riproposto palla che nel frattempo è terminata in fallo laterale 42 minuti nel corso del primo tempo sempre 0 a 0 il risultato di questa partita ricordiamo anche che Juventus e Colonia non si affrontano per la prima volta nella storia delle loro avventure in Europa nella stagione 70 a 71 si affrontarono in semifinale mentre c'è questo buon lavoro di Est era ancora di Coppa UEFA la Juventus vinse 2 a 0 a Torino e pareggiò qui per 1 a 1 e poi andò in finale se non sbaglio Roberto venne battuto poi dal Leeds nella finale di quell'edizione di Coppa UEFA attenzione perché c'è un lancio per gli Agostini che comunque è finito in posizione di offside noi perdemo quella Coppa senza aver perso nemmeno una partita e perdiamo appunto anche la finale causa i gol fatti in trasferta 2 a 2 Torino 1 a 1 in trasferta doverosa precisazione mentre avanza Gilken che scambia con Estler che chiama in causa Jansen ancora Jansen senza grossi pateni 45 minuti di gioco dunque 0 a 0 non ci sono state molte emozioni ed è meglio così ricordiamolo ancora una volta ho ribadito prima che forse l'occasione più bella anzi sicuramente era capitata a Casiraghi per una distrazione di Steiner comunque 0 a 0 al termine dei primi 45 minuti ecco siamo sì Dario Dario scusa Salvatore Pierluigi adesso una Juve mi sembra determinata come vedete Gigi scusa solo una battuta ecco mi sembra una Juventus ben determinata che non ha sofferto eccessivamente sì mi sembra che l'occasione migliore l'abbiamo avuta noi ecco i giocatori della Juventus sono abbastanza attesi come avete visto nonostante il risultato del campo confermi una buona partita per loro per il momento quindi da bordo campo è tutto linea Rui Rui una Juventus solo una cosa una Juventus che mi sembra molto ben disposta in campo sì per il mio tempo stiamo giocando bene chiudiamo bene speriamo di approfittare adesso nel secondo tempo meglio con tre piedi ecco proprio nel secondo tempo l'allenatore tedesco ha detto nel secondo tempo che il Colonia verrà fuori Dov cosa va detto a questo proposito speriamo di no noi facciamo la nostra stessa partita e speriamo di fare con tre piedi fare poco in gol ecco nonostante tutto una delle azioni più pericolose è stata proprio Juventina quindi va bene dovete continuare su questa strada sì speriamo alla fine bocca al lupo ecco da bordo campo è tutto linea Bruno Longhi a Roberto Bettega per il secondo tempo bene grazie Nicola le squadre dunque hanno fatto la loro apparizione in campo sulle terreni di gioco e c'è ovviamente il numero 13 che è un numero che dovrebbe essere il numero portafortuna per il Colonia auguriamoci che sia che non sia così è il numero di Falco Goetz il giocatore della Germania Est giocatore che ricordiamolo viene messo in campo salto ariamento oppure a scartamento ridotto ma è un giocatore che è il capo canoniere della Coppa UEFA al pari di Ridley con sei reti premettiamo che l'abbiamo detto in diretta che sarebbe entrato Falco Goetz nessuno ce l'aveva suggerito ma a parte questo è un giocatore che ha fatto parecchi gol è un giocatore che lo si può vedere almeno lo potete vedere tra poco è dotato di una grossa stazza fisica almeno molto potente e quindi potrebbe essere una di quelle turbative anche dal punto di vista della marcatura la UE deve ridisegnarsi un attimino mi pare che proprio Bruno stia colloquiando con Zoff a bordo campo sul come impostare adesso le marcature resta da stabilire stiamo cercando proprio controllando i giocatori in campo resta da stabilire chi è colui che ha abbandonato il terreno di gioco dovrebbe trattarsesi del numero 3 Armin Goetz per cui Ordonewicz che è stato proprio attaccato in questo momento fallosamente da Napoli diviene il giocatore esterno di sinistra del Colonia per cui un Colonia che ora propone Ilgner, Gilchen Giske, Steiner, Greiner, Estler Rudi, Sturm Janssen Goetz e Ordonewicz e Juventus che rimane invece con la formazione iniziale quella composta da Tacconi Napoli di Agostini Galia, Bruno Bonetti Aleinikov, Baros Casiraghi Alessio e Schillaci in azione Estler attaccato da Bonetti ancora Estler una stupenda finta ed è costretto all'intervento falloso Dario Bonetti ecco mi pare che l'impostazione di 3 dato rivediamo come sia svelto nel muoversi nel resto con quella statura deve essere così Galia impostato su Goetz e intanto sarebbe bello vedere quello che succede centro area l'assembramento spaventoso di uomini che c'è è difficile trovare il salto anche per staccare e batte Ordenevitz di sinistro colpo di testa di Bonetti ma recupero della palla Steiner retro passaggio per Gilchen ancora Gilchen con palla sventagliata nella zona di Yesler buono l'intervento di De Agostini che ha servito Schillaci forse in posizione di offside Rui Baros fa bene a temporeggiare Schillaci ancora Schillaci il retro passaggio per Aleinikov prende la mira Aleinikov parte il tiro palla che è stata respinta involontariamente ovviamente da De Agostini ancora De Agostini il dribb di Agostini in buona posizione poi l'anticipo delle giocatore Ghischke ed è calcio d'angolo peccato De Agostini pare stato quello che ha fermato prima il tiro poi ha avuto questa palla da andare sul suo sinistro poi con molta ingenuità il difensore tedesco ha cacciato la palla in calcio d'angolo quando ne era in possesso abbastanza facilmente quindi poteva sviluppare un'azione o almeno mantenermi in possesso c'è il calcio d'angolo per la Juventus il quarto della partita il primo di questo secondo tempo che viene battuto da Schillaci esce Ilgner a pugni Aleinikov ancora De Agostini che prova il tiro con palla vedete che termina abbondantemente alato ha cercato di trovare l'angolino e di trovare anche il portiere ancora fuori dai pali è andata male a Cigi De Agostini beh sì ha tentato un tiro sicuramente non facile anzi con poche possibilità di successo comunque è stato un tiro di alleggerimento è andato un po' di pasticce qua secondo me non so se c'era fallo di Baros che in realtà disturba anche la ripresa del gioco Jansen Ghischke lentamente Ghischke non trova nessuno sulla sua strada vedete Aleinikov che cerca di contrastarlo poi Ordenovic comunque a buon gioco la Juventus grazie ancora ad Aleinikov o la fianzana le prese con Alessio da questi a Ghischke applausi del pubblico che evidentemente si accontenta di poco parliamo del pubblico ovviamente della Cologne Ghischke prova a verticalizzare per Ordenovic che subisce fallo da parte di Napoli calcio di punizione per la formazione di casa è il polacco Rudy vicino a lui Ester anzi Ester che è divenuto decisamente il playmaker della formazione che ha scambiato con Rudy che va al cross cross che termina direttamente oltre la linea di fondo si c'è anche parecchi imprecisione da parte loro ma anche in questa occasione direi che effettuare un cross giocabile almeno col tentativo di giocarlo non era così difficile ecco Lidbaschi che sembra vuole dare dei consigli mi sembra quanto sconsolato per la prestazione che i suoi compagni stanno dando il rilancio di Tacconi sempre 0-0 risultato ha cercato Casiraghi di intervenire in gioco aereo ora i giocatori del colonial si affidano a questi lunghi rilanci nel tentativo di trovare Sturm ma vedete che il rilancio è stato facile e preta di Tacconi Tacconi ecco che risponde con uguala moneta ed ora Ilgner Requestler si viene a guadagnare il pallone nella propria tre quarti Greiner Rudy Steiner palla nella zona di Estler aveva capito tutto di Agostini abbastanza prevedibile Steiner un attore molto lento e dalla fantasia sicuramente molto primitiva ancora Estler in dribbling ai danni di Bonetti ancora Estler Steiner che ha scambiato con Gischke pallone per Sturm che entra in area non ha problemi Bruno che controlla il giocatore che aveva tentato un'azione di sfondamento mentre avete visto ancora una volta Dino Zoff tranquillo in panchina secondo tempo che non lascia intravedere quelle sfuriate che erano state ipotizzate quasi con certezza dal tecnico Christophe Daun è stato un intervento falloso nettissimo di Gilken ai danni di Schillaci ma l'arbitro lascia correre Rudig che è ricevuto da Estler ancora Alemikov grande tessitore nel centrocampo Juventino Schillaci c'è Casiraghi che invoca il pallone ancora Schillaci prova il dribbling solitario e c'è un intervento falloso questa volta forse era intervenuto sulla sulla palla il difensore Gilken e qui dunque il calcio di punizione per la Juventus eccola qua andato sulla palla e poi sulla gamba però del giocatore direi che Schillaci aveva corso il rischio di vener vanificare un'azione di nuovo per il suo eccesso di possesso di palla fortunatamente invece ne è venuto fuori una delle sue occasioni preferite un tiro da 22 metri e con il suo destro potrebbe anche inquietare il portiere Iquina ecco sulla palla Alessio vicino a lui Schillaci attenzione al destro parte questa volta anche Schillaci non colpisce bene il pallone palla che è stata colpita male d'esterno ed è terminata lontanissima dai pali della porta di Ilgner purtroppo gli inquieti siamo stati noi in questa occasione pensevamo speravamo in un tiro certamente più pericoloso Ordenovic ed ecco Steiner sei volte il Colonia si è confrontato nelle competizioni europee con formazioni italiane una sola volta ce l'ha fatta a spuntarla contro la Roma accadde molti molti anni fa circa 30 anni fa la Roma Roma e Colonia si sono affrontati tre volte due volte ha avuto la meglio la squadra giallorossa e solo in quell'occasione ha avuto la meglio il Colonia dicevo Colonia che poi è stato eliminato dall'Inter nell'84-85 Inter protagonista di una splendida vittoria qui al Mungersdorfer per 3-1 nonostante la formazione allora mentre rivediamo l'azione sono andati sulla palla tutti e due si sono carambolate la palla tra i loro piedi poi naturalmente insigolata sono andati anche in contrasto con le gambe di Ordonovic l'arbitro ha punito un calcio di punizione e sono sempre pericolosi da questa posizione e batte Estler attenzione palla sulla barriera ancora Estler poi l'intervento falloso dello stesso Estler ai danni di Alessio si scusa Estler nei confronti del compagno di squadra tra virgolette ovviamente calcio di punizione per la Juventus comunque concludo brevemente l'argomento di Pocanzi dicendo che l'Inter aveva vinto giocando in 10 uomini per espulsione di Ferri avvenuta dopo pochissimi minuti ovviamente 3 a 1 qui contro il Colonia nell'84-85 conclusione veramente di una partita memorabile ma torniamo a parlare di questa Colonia Juventus risultato sempre di 0-0 Tacconi che ha rilanciato poi Greiner che ha respinto intervento fallosissimo di Steiner a gamba tesa si lamenta anche il capitano del Colonia ma è inflessibile il direttore di gara loro hanno invertito sui rinvii di Zoff la marcatura Steiner si prende Casiraghi e il Gitz che va a fare il libero poi immediatamente l'azione assume uno sviluppo e riportano la situazione naturale ecco Napoli colpo di testa di Gilken poi Falco Götz che finalmente prova a toccare il pallone in azione Janssen c'è stato forse uno scontro nella tre quarti campo sulla tre quarti campo vediamo che la panchina del Colonia si alza Libarski Daum mi pare che l'arbitro sia stato invitato o stia andando a parlare con il guardaline non credo che abbia visto molto come del resto sinceramente non ho visto nemmeno io quello che è successo tra Bruno e Sturm rivediamo se da questa angolazione si riesce a vedere qualcosa ma sono fuori quadro i due giocatori qua c'è l'azione che si stava sviluppando vedete che nel passaggio che Sturm era già in terra e vediamo che sta muovendosi purtroppo per fortuna è un cartellino giallo dunque un cartellino giallo per Pasquale e Bruno dopo l'ammunizione combinata a Galia al trentunesimo del primo tempo ora al decimo della ripresa c'è questa nuova ammunizione per Pasquale e Bruno andiamo a vedere un pochino la situazione di Bruno ma Bruno ecco era già ammonito per cui nella finale dovrà ovviamente essere assente mentre ancora il Colonia l'assalto palla che è stata respinta da De Agostini rimessa in gioco mentre vedete ancora una volta Dino Zoff rimessa in gioco per la formazione di casa Rudy un colpo di testa da parte di Steiner per un altro da parte di Bruno poi Ghische un pallonetto a cercare Hessler ancora Hessler esegue molto bene il compitino che in verità non era molto facile palla per Janssen ancora Janssen che sta per entrare in area prova il cross poi Steiner Steiner goffo nel suo intervento permette alla difesa juventina di salvarsi a buon mercato è il momento che la Juve però dovrebbe riuscire a tenere un attimino indietro a rendere questo è molto bello fuori gioco nettissimo di tutti i due i giocatori direi che dovrebbe riuscire a allentare un attimo questa pressione che non sta diventando pericolosa ma sta diventando un po' opprimente si deve riprendere ovviamente palla che era ancora in movimento sale l'incitamento del pubblico di casa nei confronti dei giocatori del Colonia risultato che è sempre di 0-0 quando siamo al dodicesimo minuto del secondo tempo ed ecco Rudy praticamente si dribbla da solo il polacco poi Alenikov che va a cercare Schillaci in buona posizione Schillaci davanti a lui Ghische ancora Schillaci va al tiro attenzione c'è una deviazione la parata in due tempi di Bodo Igner e diciamo che questa era una situazione decisamente favorevole alla Juventus se fosse stato in Schillaci avrei puntato prima quell'uomo e tratto di driblarlo più decisamente invece è andata la conclusione dai 18-20 metri un po' la deviazione che poteva rendere pericoloso ma anche rallentata la velocità del tiro e quindi la pericolata si è ammosciata veramente molto in azione in azione ancora il Cologna con una palla per Janssen ma buona guardia vedete con il corpo De Agostini e vediamo poi che sicuramente verrà concesso un calcio di rinvio alla Juventus anche se ci sono le proteste da parte dei giocatori del Cologna sempre 0-0 quando siamo alla tredicesimo minuto del secondo tempo e quando Stefano Tacconi sta per effettuare un rinvio Schillaci Schillaci alle prese con Gilken palla in fallo laterale rimessa in gioco per la Juventus non si è ancora visto fino a questo punto Falco Goetz ricordiamo ancora capo cannoniere al pari di Ridley della Coppa UEFA Casiraghi ha tentato di fare la sponda ha colpito male il pallone poi Sturm poi c'è uno scontro tra Janssen e De Agostini beneficia di questa situazione Hessler ancora Hessler che punta diagonalmente ancora Hessler in dribbling prova il tiro attenzione la parata di Tacconi e questo è veramente un grosso giocatore però ti è costretto a fare troppo ha fatto 50 metri di campo ha chiuso ha calciato in equilibrio instabile come vedete e da molto lontano non poteva essere eccessivamente pericoloso ancora bravo Casiraghi a fare la torre per Schillaci che è stato decisamente sfortunato nell'aggancio scambia con Napoli lezioso delizioso pallonetto per Alessio poi Rui Barros che riesce ad arrivare sulla palla temendo di cadere di non ritornare sul pallone lo ha calciato favorendo così il disimpegno dei giocatori del Colonia che tentano un'altra sortita ora con Ghischi che ha ricevuto da Steiner ancora Hessler lo attende De Agostini scambia con Steiner attaccato da Barros questo è Jansen fortunato Jansen stava per entrare in area si prosegue Reiner apertura sulla destra per Steiner davanti a lui De Agostini ancora Steiner prova un cross palla calciata in qualche modo e poi c'è stata la respinta ed ora Casiraghi alle prese con Gilken ma la meglio l'unico difensore in questa situazione ovviamente del Colonia Ordeneviz parte in dribbling c'è il fallo poi di Casiraghi e calcio di punizione guadagnato dall'ex giocatore del Werder Brema ricordiamo che nella panchina della Colonia oltre a Dressen c'è anche un certo Uwe Ran giocatore che avrebbe dovuto fare sfracelli quando era stato acquistato dal Colonia mentre ora il gioco è fermo per un incidente capitato se non vado errato a Dordeneviz ecco rivediamo ancora la caduta Dordeneviz dunque per la ripresa del gioco appuntamento tra qualche secondo ри è un sacco di ranking che si è rialzato Frank Ordeneviz nulla di grave per questo giocatore è calcio di rinvio che viene affidato a Capitan Taccone quarto d'ora che è già passato abbondantemente, siamo al diciassettesimo di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Cologna e Juventus, Casiraghi ancora Casiraghi buono il ritorno di Rudy per l'arbitro, si tratta di calcio e di punizione Alessio sulla palla c'è Bonetti, mentre rivediamo ancora l'intervento di Rudy forse si era aiutato con le mani prima dell'impatto piede-pallone c'è Bonetti che si porta al limite dell'area, palla alta calciata da Alessio, la respinta è di Greiner poi è Rudy che in qualche modo era riuscito ad allungare la traiettoria della sfera ci sono in fuorigioco secondo i guardalini due giocatori, forse era Barros che era rientrato comunque vediamo tutto a Schillaci va bene, fate spostare la posizione di battuta del fuorigioco perché centralmente ovviamente c'era il fuorigioco più evidente Gilken ancora Gilken che ha scambiato con Hessler si ripropone il tema Steiner ancora Steiner salta Barros poi c'è una palla per Sturminare ancora Sturm attenzione il cross l'intervento di Dario Bonetti e poi la palla che viene spedita involontariamente ma definitivamente in calcio d'angolo ed è il corner numero 4 per il Colonia 4 neanche battuti la Juventus e Astler che si appresta a battere dalla destra dello schieramento della formazione di casa palla altissima colpo di testa ancora di Bonetti e traiettoria del pallone che viene allungata fino a terminare in fallo laterale Jansen Rudy prova Rudy ed è Alainikov che respinge il pallone oltre la linea di fondo ed è ancora calcio d'angolo sta salendo di tono la pressione della Colonia ma è un Colonia che riesce soltanto a guadagnare dei tiri dalla bandierina ecco il corner battuto tra Rudy Ghiske intervento stranissimo quello di Ghiske le sue spalle c'era liberissimo Ester vediamo il giocatore norvegese che rientra nella sua posizione di partenza definiamola così comunque Juventus che non corre assolutamente rischi questo Ghiske avrebbe avuto una bella posizione di partenza è già seduto nella panchina che è nascosta agli occhi anche dei telespettatori Steiner e Casiraghi ha avuto la meglio Casiraghi che è riuscito a servire Schillaci e poi si spegne l'azione offensiva della Juventus mentre i giocatori del Cologna cercano di fraseggiare ancora una volta con il solito asse Gilken Estler ancora Gilken Ghiske Greiner controllo difficile arriva in suo soccorso il direttore di gara che punisce l'intervento di Barros anche se dal punto di vista esclusivamente tecnico andava punito anche lo stop sbagliato del giocatore tedesco ma direi che sostanzialmente però la partita ha tolto qualche scontro non si è rivelata troppo cattiva quindi è abbastanza facile da gestire per l'arbitro batte Ordeneviz palla lunga facile preda per Tacconi ed è pronto il rilancio a cercare Barros in verità il pallone era difficile da guadagnare o la fianza lo fronteggia di Agostini il colpo di tacco per Estler ancora Estler palla in area a Galì ha qualche difficoltà a causa del rimpallo poi c'è una conclusione di Steiner e parte ora il contropiede della Juventus ancora Gilken comunque che è in vantaggio il nuovo libero in questa situazione in cui il Colonia sta giocando il tutto per tutto portando Steiner come punta di sfondamento a fianco di Sturman ancora Steiner sono queste palle sporte che possono essere pericolose Estler avanzata di Estler vedete che anche Estler si impappina poi c'è una conclusione di Greiner ed è ancora calcio d'angolo il calcio d'angolo numero 6 per il Colonia 6 a 4 mentre vedete inquadrato Frank Greiner giocatore di 23 anni per lui un solo gol in Bundesliga da quando gioca in Bundesliga non in questa stagione ed ecco il calcio d'angolo che viene affidato a Rudy palla calciata bassa c'è una deviazione pericolosissima diciamolo francamente da parte di Olaf Jansen e nessuno è riuscito ad avventarsi sul pallone che fortunatamente è terminato un fallo laterale dalla parte opposta al punto di battuta di Rudy il rilancio è di De Agostini direttamente in fallo laterale De Agostini ricordiamo segnò un gol a lui molto caro ma anche agli sportivi italiani in occasione dei campionati europei 1988 contro la Danimarca realizzò uno dei due gol di quella partita il suo secondo gol in nazionale ma è ancora il Colonia che preme attenzione la palla viene bloccata con grande classe da Stefano Tacconi sul cross dalla destra di Olaf Jansen ancora una volta un cross tese forte di collo pieno invece che un cross a cercare i compagni direi però che la Juventus adesso sta subendo un attimino troppo Schillaci bravissimo si libera di tre avversari inseguito da Steiner vedete che corpo a corpo alla meglio il giocatore sicuramente più potente mentre parte Ordenevitz ed è bravo Galia di intercettarne l'incedere spedendo la palla in fallo laterale Ordenevitz ancora Juventus deve cambiare qualcosa vediamo che Zoff sta probabilmente correndo ai ripari Ordenevitz va al cross il colpo di testa di Pasquale Bruno Greiner poi Rui Barros c'è il fallo involontario cercava la palla anche lui ha trovato le gambe di Rudy e il calcio di punizione a favore della formazione di casa mentre c'è uno scontro tra Greiner e Rui Barros qui ci ha rubato il tempo Barros ha fatto fallo poi cercava di fare un attimo non riprendere il gioco e da qua ne ha scaturito questo battibec intanto l'allenatore tedesco sta cercando di allargare la Juventus tenendo molto largo Ordenevitz proprio sulla linea di fuori Hesler largo dall'altra parte da Hesler va al tiro e tenendo le due punte centrali in scurma e Greiner ed è proprio Hesler che si è prestabattere questo calcio di punizione quando siamo al ventiquattresimo e c'è la parata di Tacconi era una palla velenosa molto bravo Tacconi a tenerla a non farsela scappare perché gli ha battuto non più di tre metri davanti con questo terreno anche reso scivoloso dalla pioggia del primo tempo poteva veramente diventare pericoloso ancora Hesler Giske che ha dato a Steiner prova a lanciare lungo Steiner si fa prima che è un giocatore privo di fantasia senza grande tecnica mentre vediamo Rui Barros che ha cercato di arrivare sul pallone purtroppo per lui il rimpallo non è stato favorevole e beneficia così la colonia di questo calcio di rinvio già effettuato da Ilgner che ha scambiato con Giske Steiner ancora Giske il lancio è lungo a cercare Greiner vedete che aumenta a dismisura la velocità del pallone a contatto con il terreno bagnato dalla pioggia mentre terminato a terra il giocatore Greiner è andato a finire contro un cartellone pubblicitario mentre vediamo anche questa immagine abbastanza emblematica un ragazzino che era annoiato nell'assista alla partita alle sue spalle un giocatore della Juventus che si sta scaldando si tratta di Salvatore a vallone parliamo ovviamente del giocatore della Juventus Gilchen comincio a pensare che Zoff possa anche a questo punto togliere una punta magari per mettere un centrocampista in più in quanto veramente non riesce più l'attacco la squadra di Juventina a impensierire un attimo tolto qualche disattenzione come questa che possono commettere i difensori e quindi cerca di dare un contributo maggiore di incontenimento sono 26 minuti di gara nel corso di questo secondo tempo sempre 0-0 Rudy prova a cercare sulla destra Estler bravissimo Estler va a domesticare il pallone va al cross e guadagna ancora un calcio d'angolo calcio d'angolo che vedremo tra poco è Thomas Estler che si appresta a battere il settimo corner per la sua formazione quando siamo al 26esimo minuto ancora Estler ancora un cross una deviazione e poi il colpo di testa di Pasquale Bruno ed è ancora calcio d'angolo dicevo prima che sta facendo collezioni di corner il Cologna siamo arrivati a 8 la Juventus ne ha battuti 4 sta premendo la formazione tedesca ma la Juventus non sta correndo rischi fino a questo momento auguriamoci che sia così fino alla fine ancora un corner il colpo di testa attenzione che la deviazione era di Steiner e la palla è terminata di poco a lato è vero che non sta correndo pericoli veri o grossi cioè frutto di azioni costruite però tutti questi calci d'angolo queste palle buttate in mezzo possono anche dare origine a a una palla brutta intanto c'è stato nello scontro mi pare Casiraghi che sia a terra avevi detto che l'avevano visto uscire già con il lavro sanguinante mi sa che che abbia preso ancora una botta da qualche parte non so se sul naso ancora voi i contatti fisici diventano ordinari amministrazioni ecco vedete a terra Gigi Casiraghi mentre Christophe Daum si sta sottoponendo a delle interviste estemporanee probabilmente da parte di un collega della radio tedesca mentre sta cercando ora di affidarsi anche alla carta Uwe Rahn dicevo prima di questo giocatore che ha il suo attivo 88 gol in Bundesliga giocatore di 28 anni giocatore che aveva fatto parte anche della Rosa della Nazionale aveva giocato diverse partite in Nazionale giocatore che è stato acquistato quest'anno dalla Borussia di Mönchengladbach giocatore che verrà messo in campo forse al posto di Greiner diciamo forse perché la sostituzione ancora non è stata effettuata ed è Tacconi che rilancia stoppa Esler calcia male Alessio Ordeneviz e Napoli e poi ancora Napoli che alleggerisce verso il portiere Tacconi fischi del pubblico ma non ci pare sia il caso di assolvere l'atteggiamento dei tifosi visto che la Juventus allorché è stata sulla difensiva lo ha fatto soltanto perché è costretta dagli avversari una Juventus che non ha proposto i soliti contrattacchi contro piedi delle altre gare ma Juventus che comunque ha giocato la sua gara dirigente intervento nel frattempo in chiusura di Bonetti ai danni di Greiner mentre c'è la sostituzione che viene richiesta dalla panchina del Cologna e c'è ancora un intervento di Greiner palla che si impenna e poi Bonetti che dà il tocco di grazia al pallone che finisce oltre la linea dell'out ecco dunque che viene effettuata questa sostituzione è Rudy Andrei Rudy il giocatore che viene invitato ad abbandonare il terreno di gioco al suo posto come avevamo preventivamente annunciato Uwe Ranna si penso che sia un'altra ormai ha capito la natura tedesca che è soltanto più un fatto di buttare palla in mezzo in qualche cross e quindi cerca di inserire un'altra torre un altro potenziale colpitore anche perché complicare ancora di più in marcatura proprio da Juventus e qui siamo sul metro 84 c'è già Steiner un metro 82 mentre vediamo Esler che prova il cross Greiner è in posizione buona Falco Goetz si impappina e guadagna soltanto un calcio d'angolo veramente scampato pericolo è proprio il caso di Pire scampato pericolo ha controllato male questa palla lì è finita su distinchi ma questo controllo c'è stato anche il contrasto di Napoli intanto un colpo di testa e le mische si susseguono adesso hanno dei grossi saltatori o almeno dei potenziali grossi saltatori bisogna che Zoff anche riesca a disporre un attimino le marcature nuove ecco vedete Dino Zoff che sta seguendo in piedi questo ultimo quarto d'ora di questa partita 15 minuti qualcosa di meno dividono la Juventus dalla qualificazione alla finale della Coppa UEFA una finale europea dicevo prima che manca da 5 anni alla società bianconera dalla finale della Coppa dei Campioni 1985 comunque continua nel suo assalto la squadra di casa buono l'intervento in scivolate di De Agostini mentre due giocatori del Cologne e Schillaci cercano di arrivare sul pallone ma il velocissimo Gilken in netto anticipo da Igner a Ordeneviz palla buttata nel mucchio a cercare la testa di Götz di Falco Götz Olaf Jansen ancora Jansen il tocco è per Esler l'apertura è sulla sinistra per Ordeneviz che manca lo stop regalando così un prezioso pallone alla Juventus era liberissimo Ordeneviz Alenikov in seguito ancora da Ordeneviz che commette fallo l'arbitro giustamente accorda il calcio di punizione alla Juventus è stato molto furbo alenico quando ha visto l'avversario in superamento si è leggermente allargato verso intanto Bay Park e Brio vedete che si sta scaldando proprio perché ha qualche problema in marcatura la libertà di Ordeneviz prima era che Napoli era andato a prendere Rang in mezzo e aveva trascurato logicamente un avversario Steiner Jansen e poi Bonetti Schillaci ancora Schillaci in seguito da Hessler poi è Falco Goetz che ha cercato di guadagnare il pallone poi il rilancio di Galia tra le braccia di Igner ci sono dei segni di Zoff a bordo campo Zoff ha incrociato le dita per invitare i suoi difensori a cambiare la marcatura a scambiarsi la marcatura ancora Jansen palla per Steiner prova Steiner guardate cosa tirate questo giudatore definiamo lo tiro non sappiamo se è giusto definirlo così comunque palla che è terminata lontanissima dai pali della porta di Tacconi si adesso la Colonia sta rischiando qualcosa gioca senza battitore libero assolutamente gioca marcatura uomo su uomo quindi in superiorità numerica la Juventus sta anche soffrendo un attimo questa marcatura del nuovo entrato che Rang in partenza d'azione si schiera a centrocampo come Rudy ma poi immediatamente si propone di fianco a Sturmer a Goetz azione di Ghiske Greiner Esler cerca di fuggire sulla sinistra Uwe Rahn e cerca di trovarlo Esler ha intercettato molto bene Napoli ma c'è l'errore poi di Alessio ancora Esler Jansen con una serie di tentativi di dribbling gli ruba la palla a Rui Barros che può ripartire ha cercato il lancio su Schillaci buon gioco da parte di Gilken la Juve da segni di pericolosità anche se forse è il momento più difficile della sua partita fordeneviz Greiner buono intervento di Bonetti poi ancora Barros e c'è un calcio di punizione accordato alla Juve dall'ottimo arbitro Petrovic ingegnere jugoslavo di 38 anni che ha già diretto ai mondiali dell'86 e arbitrerà anche ai prossimi mondiali 1990 vedete il fallo nettissimo di Jansen ai danni di De Agostini e viene ammonito anche il giocatore tedesco che già figurava l'elenco degli ammoniti non andiamo oltre con questo discorso c'è un calcio di punizione mentre rivediamo ancora De Agostini trattenuto per la maglia da Jansen Schillaci Galia retropassaggio di Bruno per Bonetti che chiamerà presumibilmente in causa Tacconi Falco Goetz ha tentato di disturbare Tacconi che si era cavato con un sorriso Gilchen che è proprio diventato ormai libero della formazione di casa quando siamo al 35esimo minuto 34 minuti e 30 secondi Esler ancora Esler velocizza sulla destra per Jansen palla ancora per Esler Jansen ancora superato Barros costretto vedete il Colonia a tentare l'avvicinamento per via orizzontale mentre Ordenevitz che ha tentato ora un dribbling su Alessio dribbling che non gli è riuscito rimessa in gioco che viene effettuata dallo stesso Ordenevitz di testa run poi c'è un'area spinta di Bruno momento un po' di caos all'interno della difesa bianconera Jansen intervento di Alessio tutto regolare il primo intervento era di Alenico il secondo di Alessio è buona la situazione Casiraghi parte contropiede velocissimo di Casiraghi c'è lui Barros al centro ancora Casiraghi attenzione entra in aria c'è il cross e si salva in calcio d'angolo con Esler il Colonia calcio d'angolo che rivedremo tra pochi stenti ed è calcio d'angolo dunque per la Juventus mentre sale al cielo l'incitamento dei tifosi della vecchia signora ed è Alessio che si appresta a battere questo corner il calcio d'angolo numero 6 mentre il Colonia ne ha battuti 9 mentre vediamo Rui Barros autore pure lui di una fuga al centro area verso il centro dell'area si aspettava il passaggio di Casiraghi che non è arrivato comunque uscita di Bodo Ilgner è pronto rilancio per Sturm alle prese con Napoli a domestica il pallone Napoli poi Sturm interviene in modo decisamente buono per la sua squadra c'è un cross a cercare Uveran colpo di testa di Barros Bonetti il lancio è lungo per Casiraghi ma c'era in posizione di fuori gioco Totò Schillaci controlliamo il cronometro sono 8 minuti che mancano al termine di questa partita sempre 0 a 0 risultato risultato che va benissimo alla Juventus che si sente sempre più vicina a questa che sarà una finale tutta italiana della Coppa UEFA un inedito dunque ma vediamo ancora che cosa accadrà in questa parte finale Gilken attenzione la parata di Tacconi su questa botta di Gilken da non più di 5-6 metri deve stare molto attenta però la Juve non mi pare che abbia inquadrato molto bene le marcature Ordonevic parte sempre in libertà e oltre ad attirarsi poi immediatamente un avversario libera un compagno in questo caso il terzino destro che fortunatamente ha scaricato il destro addosso a Tacconi ancora Ghiske sempre il risultato di parità sempre 0-0 c'è un tentativo vedete di Steiner un tentativo forse di colpo di tacco era comunque inspiegabilmente libero il giocatore che come abbiamo più volte ribadito non è che sia dotato di grande sensibilità agli arti inferiori e questa volta ha goffamente mancato l'impatto col pallone rinvio di Tacconi mentre controlliamo sempre l'orologio Greiner Ordonevic una deviazione una palla che arriva in area attenzione Tacconi in anticipo su Sturm abbiamo quasi accompagnato con il fiato sospeso questo pallone che è terminato tra le braccia di Tacconi ma c'è anche l'intervento dell'arbitro che punisce il tentativo di Ralph Sturm eccolo lo vediamo ancora 21enne attaccante figlio d'arte e suo padre Anzi Sturm aveva militato pure lui nel Cologna negli anni 60 il rilancio di Tacconi in zona franca definiamola così visto che non c'è nessuno non ci sono giocatori del Colonia giocatori della Juventus ed è Ester che sta per effettuare la remessa in gioco indiscrezioni giornalistiche indicano in 30 milioni il premio di qualificazione per la Juventus che va ora in attacco con Rui Barros il rilancio di Ilgner Bonetti Ola Fiansen una palla scagliata verso l'area bianconera un colpo di testa di Bonetti e poi Galia non si fanno complimenti in questo momento della partita e ovviamente anche in questa parte del terreno di gioco accelera sulla sinistra De Agostini in seguito da Janssen ancora De Agostini potrebbe andare al cross sono ovviamente in sovrannumero i giocatori del Colonia e riescono a cavarsela senza problemi si la partita si è proprio spezzata in ogni senso staticamente come ruoli vedete Steiner che fa il centro avanti anche lui praticamente fisso è tutto un cercare di far arrivare la palla nell'area avversaria il più in fretta possibile Ester azione di Ester la palla per Janssen il colpo di testa di Falco Goetz mentre Uveran cerca disperatamente di andare a toccare il primo pallone da quando è entrato sul terreno di gioco mentre Casiraghi è stato autore di un bellante spunto attenzione tre giocatori della Viventi scontro due è Barros che vuole la palla peccato che forse di la data un po' arretrata Schillaccia ancora Barros sta per entrare in area va il tiro e para Ilgner Bonetti la fretta a volte è cattiva consigliera anche per chi deve cercare di fare gol e recuperare questo buttare via la palla da parte del portiere agevola sicuramente la Juventus oltretutto la stanchezza comincia a farsi sentire su entrambi i fronti meno di cinque minuti al termine Alessio Alessio in buona posizione entra in area può preparare il sinistro ma al tiro e c'è un fuorigioco Schillaci ancora una buona situazione una situazione favorevole per la Juventus vediamo ancora il lavoro di Alessio vedete il tiro incrociato e Schillaci comunque in posizione di offside che non è riuscito ad arrivare sul pallone lancio lungo ancora colpo di testa di Sturm Alessio Greiner Aleinikov Gilchen Aleinikov Ghiske De Agostini vedete il fallo nettissimo di Falco Goetz ovviamente cercano di arrangiarsi i giocatori del Colonia che lasciano ormai tutto al caso all'improvvisazione si affidano più che altro al destino vediamo che nervosamente il tecnico Daum si alza e si siede mentre Dino Zoff è tranquillo in panchina se è lecito dire che si può essere tranquilli quando mancano meno di tre minuti al termine della gara 0 a 0 tra Colonia e Juventus Juventus vicinissima dunque alla finale di Coppa UEFA un lancio lungo buonetti alle prese con Sturm retro passaggio per Taccone Sventolino Sventolino di bandiere sugli spalti del Nungelsdorfer Casiraghi Ran primo pallone toccato da Ran scambia con Jansen pallalunga a cercare Falco Goetz Galia Rui Barros ecco Schillaci Schillaci le prese con Gilken che gli mette il pallone in fallo laterale mi pare che l'arbitro voglia assegnare un calcio di punizione alla Colonia perché Schillaci si sarebbe aiutato con le mani ecco il pallone che spiove in area c'è il colpo di testa di Greiner attenzione a Falco Goetz Falco Goetz che invoca il calcio di rigore o perlomeno lo invocavano coloro che compongono la panchina e l'arbitro con un gesto molto eloquente ha indicato l'atteggiamento di Falco Goetz spiegando che si sarebbe tuffato Bonetti ottima l'elevazione la Juventus che riparte ecco Di Agostini sul binario di sinistra è libero centralmente Barros ancora Di Agostini ha cercato di saltare Greiner palla che è terminata in fallo laterale la rimessa in gioco dovrebbe essere a favore della Juventus Tripudio ovviamente da parte dei tifosi bianconeri sugli spalti sventolio di bandiere meno di un minuto al termine e Zoff sta procedendo alla logica sostituzione Sergio Brio sta per entrare in campo al posto di Totò Schillaci sostituzione ovviamente logica al 89esimo in quanto poi la palla nella metà campo avversaria Schillaci è dall'altra parte del campo io direi che questo ultimo minuto tranquillamente sta trascorrendo Deco Schillaci che l'MLM abbandona il terreno di gioco ovviamente per regolamento è anche costretto a portarsi all'intersezione tra la linea mediana e quella dell'out laddove c'è il guardaline ed entra in campo Sergio Brio e la Juventus ha già battuto questa rimessa in gioco con Rui Baros che se ne va entra in aree ancora Rui Baros attenzione è in buona posizione Rui Baros va al tiro invece che servire Casiraghi poi a Lenikov e c'è la conclusione poi se non vado errato si di De Agostini di destra e palla lontanissima dai pali della porta di Bodoilgh ma nulla importa non fa niente se De Agostini ha tirato male ha tirato a lato il Colonia è costretto ad accelerare è già scaduto il novantesimo sempre 0-0 risultato colpo di testa perde la palla Baros Napoli Ordeneviz una affiondata a cercare Steiner attenzione a Steiner in buona posizione Steiner grande parata di Tacconi grandissima parata di Tacconi sulla conclusione di Steiner a tempo praticamente scaduto fortunatamente la conclusione era alta cioè non era la raso terra e Tacconi ci ha posto veramente una pezza che come riesce a girarsi bene nonostante la pressione di Brio e se la palla era a terra sarebbe stata diversa tanto vediamo questo è l'ennesimo calcio d'angolo che si va a ripetere ancora corner due corner ancora notiamo sul nostro Tacquino sono undici per il Colonia la partita dovrebbe essere finita l'assalto conclusivo in tempo ormai scaduto da parte della squadra di casa batte Ester palla che si impenna Falco Goetz è alta sopra la traversa è probabilmente l'arbitro dopo aver controllato il cronometro manderà tutti negli spogliatoi no si deve giocare ancora ma non fa riprendere il gioco sicuramente non fischierà difficilmente fischia con una palla inattiva così tanto non è assolutamente a danno della Juventus Tacconi può perdere altri dieci secondi può rinviare a metà campo intanto vediamo che c'è un battibecco in mezzo al campo e ancora Sturm che va a provocarlo intanto sono tutti i secondi che giovano la Juventus ed ecco l'arbitro ancora una volta controlla vedete la lancetta dei minuti anche dei secondi farà battere Tacconi e presumibilmente fischierà la fine auguriamoci che sia così Casiraghi ancora Casiraghi termina a terra l'arbitro assegna un calcio di punizione alla Juventus si va comunque stranamente oltre il tempo regolamentare di un paio di minuti sempre l'arbitro che sta controllando il cronometro e lui il protagonista da lui sembra dipendere ecco che è finita in questo momento la Juventus esce in battuta è 0-0 esce in battuta qui dal Müngersdorfer di Colonia grandi abbracci con Dino Zoff in ginocchio Tacconi che si sta abbracciando a tre quarti campo con un compagno di squadra dovrebbe essere Gigi De Agostini un successo è un pareggio ma è un grande successo per la Juventus e l'Italia per la prima volta porta due squadre in finale di Coppa UEFA Roberto diciamo che il Colonia ha fatto molto di più come ci si aspettava in questo secondo tempo ma il risultato è giustissimo ma direi che si è reso pericoloso nel finale un po' con le mischie un po' per quel grande tiro di Stenere cui Tacconi si è opposto in modo più che egregio e direi che è proprio un grosso successo oltre che per la Juve per il calcio italiano chissà che la serata intanto Nicola credo che posso cerchi di catturare qualcuno e ti diamo la linea Pasquale Pasquale ecco siamo qua con Pasquale Bruno una grande soddisfazione la Juve in finale un'ottima partita è andata in tirare la squadra più forte è impossibile che uscisse una squadra che aveva fatto sei vittorie consecutivi in Trasterta e il giusto premio a questa volta è una grandissima persona Dino Zoff anche se in secondo tempo Polcolone vi ha fatto soffrire no? era logico perché loro devono far gol però questa è una grandissima squadra grazie allora rimaniamo sempre collegati qui a bordo campo dobbiamo aspettare Dino Zoff intanto penso che la regia possa staccare sui tifosi i giuventini in grande in grande tripudio ecco dicevamo sono venuti numerosi qua a Colonia vediamo Stefano Stefano i giocatori scappano anche perché dalle tribune piove qualcosa vediamo vediamo di riuscire a catturare proprio al caso di dirlo Dino Zoff non è ancora arrivato dalle nostre parti dunque la finale di Coppa UEFA quest'anno vedrà di fronte due squadre italiane la Juventus e la Fiorentina ecco Nicola se ci sono dei problemi seguiamo un po' sono dei tafferugli sulle tribune fra tifosi di opposte fazioni comunque non sembra niente di grave io vi chiedo un attimo di pazienza vediamo se riusciamo ad ascoltare Dino Zoff per il momento do la linea a Longhi vi chiederò la linea se riuscirò a tornare anche perché noi non riusciamo nemmeno qui dalla nostra postazione a vedere dove è andato a finire Dino Zoff comunque Roberto stavamo così proponendo quelle che sono le considerazioni finali di questa partita un po' di batticuore c'è stato sinceramente in questa seconda parte e ovviamente tutto ciò fa spettacolo ha reso più bello l'avvenimento l'evento questa partita è tutto bene quel che finisce bene sì sicuramente dovute più a fatti casuali che non di gioco alla pressione costante che il Coloni ha esercitato e che la Juventus pur subendo l'ha controllata abbastanza bene ma direi che vanno in finale due squadre italiane che hanno meritato in queste semifinali di conseguire questo ambizioso traguardo è una sfida adesso fra Consorello e Fra Tricida però è una sfida che comunque vedrà questa Coppa rimanere in Italia come era già successo l'anno scorso sembra che la Coppa UEFA debba a tutti i costi rimanere a noi ecco mi sembra che a questo punto Nicola se non vado errato Zoff è fuggito o perlomeno ha guadagnato gli spogliatoi magari percorrendo un'altra strada ecco questa è l'impressione perché anche da parte nostra avevamo così la volontà di sentire a caldo le impressioni del tecnico ecco Nicola la situazione com'è in questo momento guarda Bruno io sto cercando ma veramente lo cercano anche gli altri colleghi è veramente sparito non so se tu vuoi tenere a linea ancora qualche secondo poi ma io a questo punto comunque direi di dare la linea alla regia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti